Papa Francesco rivolge un appello a trovare soluzioni, durature per affrontare la questione dei migranti minorenni. Lo rivolge appunto Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale del migrante che sarà celebrata domenica 15 gennaio. Il messaggio del Papa è un appello all'accoglienza, alla tutela e all'accompagnamento dei minori, migranti e richiedenti asilo che costituiscono una parte maggioritaria di chi oggi è in cammino e in fuga nel mondo. Questo il commento poi di Monsignor Perego, presidente della Fondazione Migrantes. Sentiamo. Rivolgo a tutti un accorato appello affinché si cerchino e si adottino soluzioni, durature per affrontare la questione dei migranti minorenni alla radice. Papa Francesco lo scrive nel messaggio per la centotreesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata domenica 15 gennaio. Il messaggio del Papa ha come tema migranti minorenni vulnerabili e senza voce. I più piccoli sono tre volte indifesi, perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando per varie ragioni, dice il Papa, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d'origine e separati dagli affetti familiari. Tra i migranti, spiega, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile, perché mentre si affacciano alla vita sono invisibili e senza voce. La precarietà li priva di documenti, nascondendoli agli occhi del mondo. L'assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo, i minori migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove l'illegalità e la violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell'abuso dei minori è dura da spezzare. È assolutamente necessario, afferma ancora il Papa, affrontare nei paesi d'origine le cause che provocano le migrazioni. Questo esige come primo passo l'impegno dell'intera comunità internazionale a estinguere i conflitti e le violenze che costringono le persone alla fuga. Sono in primo luogo i minori, denuncia il Papa, a pagare i costi gravosi dell'emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali, fattori ai quali si associa anche la globalizzazione nei suoi aspetti negativi. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili, rimarca Papa Francesco, comporta anche lo sviluppo di aberranti piaghe, come il traffico di bambini, lo sfruttamento e l'abuso di minori, in generale la privazione dei diritti inerenti alla fanciullezza sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Protezione, integrazione e soluzioni durature per aiutare i minori migranti sono al centro dell'intervento del Papa, che ha rimarcato come la condizione dei migranti minorenni e ancora più grave quando si trovano in stato di irregolarità o quando vengono assoldati dalla criminalità organizzata. Allora, sono spesso destinati ai centri di detenzione. Non è raro, infatti, che vengano arrestati e poiché non hanno denaro per pagare la cauzione o il viaggio di ritorno, possono rimanere per lunghi periodi reclusi, esposti ad abusi e violenza di ogni genere. Il diritto degli stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene comune nazionale deve coniugarsi col dovere di risolvere e regolarizzare la posizione dei migranti minorenni, dice il Papa, esortando a rispettare la loro dignità e a cercare di andare incontro alle loro esigenze quando sono soli, ma anche a quelle dei loro genitori per il bene dell'intero nucleo familiare. A volte, scrive il Papa, invece di favorire l'inserimento sociale dei minori migranti o i programmi di rimpatrio sicuri assistito, si cerca solo di impedire il loro ingresso, favorendo così il ricorso alle reti illegali. Oppure essi vengono rimandati nel paese d'origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo interesse superiore.